Indago, secondo lei il maltempo e quindi la pioggia, la grandine, il fango, che danno possono provocare ancora al palazzo d'Avalos? Ma dipende dall'entità dell'agenzia atmosferica, ma speriamo comunque che non ci saranno superstiti. Chiediamo anche all'assessore. Dipende dall'entità dell'agenzia atmosferica, speriamo comunque che non ci saranno superstiti. Ehm, va bene, rimane solo il parere di un esperto. Splish, splash, splash, splish. Adoro saltare su e giù nelle pottanghere di fango.